E' iniziato alla Camera dei Deputati il dibattito in seconda lettura del disegno di legge sull'autonomia differenziata. Un progetto che i sindacati che sono scesi in piazza a Napoli per protestare considerano devastante per l'unità del paese. Si rischia di aumentare le diseguaglianze tra i territori e di far avanzare una sorta di secezione strisciante delle regioni del nord dal resto d'Italia. E' questo l'ulteriore monito lanciato dalle sigle sindacali in piazza del plebiscito. Nello stesso giorno in cui anche il governatore De Luca è impegnato in un'altra iniziativa all'Istituto Don Bosco di Napoli contro il disegno di legge Calderoli. Accompagnato dal segretario nazionale del partito socialista italiano Enzo Maraio. In piazza plebiscito anche l'apporto di rifondazione comunista. Ascoltiamo l'avvocato Elena Coccia, dirigente militante del partito. Lo Spacca Italia determinerà ancora una volta che il sud riverrà risospinto ancora più indietro di quanto non sia. E noi e io personalmente, ma credo tutto il movimento contro l'autonomia differenziata, in questo momento chiama al rapporto il presidente della Repubblica. Il Parlamento sta calpestando la possibilità di dibattere l'autonomia, questo è il commento di Giovanni Sgambati, segretario della UIL in Campania. Questo provvedimento divide il paese e danneggia fortemente il mezzogiorno.